Direi molto bene a livello nel nuoto, i nostri ragazzi che reggiano a livello regionale e nazionale e nel triathlon abbiamo tre ragazzi nelle squadre nazionali e una ragazza, la Lisa Chanun, che è tra i probabili olimpici per Rio de Janeiro 2016. Questa era il triathlon ultimo, il nuoto, gareggiamo a livello regionale e due ragazze a livello nazionale. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, soprattutto continuare con una bella squadra come abbiamo, sia nel nuoto che nel triathlon, che questi ragazzi continuino a fare sport, che lo fanno volentieri, è chiaro che dopo qualcuno se emerge fa anche piacere.